Sì, mi sento bene perché ho tutto a portata di mano, il vecchio bicchiere per bere, ho la luce, un spazio piccolo però tutto mio, mi sento bene. Adesso sto rispondendo in inglese ad un messaggio alla lista internazionale del movimento. Che movimento? Il movimento del 15M, del Occupy Everything. Trabajas in questa oficina per il movimento? Chiaro, circa sette ore al giorno. Siete ore al giorno? Siete ore al giorno? Siete ore al giorno? No, perché oltre alla lista internazionale c'è la lista di politica internazionale, c'è la lista del barrio, c'è la lista della commissione di azione, c'è il blog di Bella Ciao, ci sono i contatti con l'Italia, ci sono i contatti con i miei amici. Bella, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.